Alla giusta dimensione unitaria rispetto alle unità del sistema internazionale, la giusta per la massa e il chilogrammo, la unità riferita alla massa materiale, ossia oggetto di una divisione in due campi opposti tra loro, materiale e antimateriale, l'unità è data dal rapporto tra n ennesimi, ossia dal prodotto tra n e n elevato a meno 1. Ora è evidente che il valore n dà luogo all'intero, mentre il valore n alla meno 1 dà luogo ai decimali. Ma la cosa da capire è che il valore intero n, che io ho evidenziato in rosso, è il valore dissociato della materia ed è unitario grazie al valore opposto n alla meno 1 che è il valore dell'antimateria, per cui alla giusta dimensione unitaria è assolutamente errato individuare una unità e aggiungervi i decimali, visto che è possibile averli andando a osservare nella struttura unitaria. Se noi facessimo allo stesso modo con il metro, che è l'unità dello spazio, noi osserveremmo che il metro contiene dentro un decimetro, poi un millimetro, un decimillimetro e così avremmo fino alla dimensione atomica un 1,11111 e l'insieme di dieci unità decimali. È chiaro che un metro è solo un metro e se noi andiamo a osservare quello che è osservabile nel metro, le altre unità osservabili, ossia il decimetro, il centimetro, millimetro, li troviamo. Sarebbe strano che noi non trovassimo la struttura unitaria, ma la parte decimale è solo la struttura che rende un metro quel metro, quindi noi se vogliamo l'unità dobbiamo fermarci al metro, alla dimensione unitaria del metro. Mi sembra evidente, la fisica è caduta in quest'errore macroscopico e alle giuste dimensioni delle varie unità di massa ha sempre aggiunto i decimali che erano solo la struttura antimateriale grazie alla quale la struttura unitaria materiale assumeva un numero diverso da 1. Quella dimensione è unitaria perché ha quella dimensione il prodotto tra la massa materiale e la massa antimateriale da 1. Ma se a noi non interessa il prodotto tra i due opposti ma vogliamo l'unità di un opposto allora questa unità è data solo dalla parte intera e dobbiamo fermarci alla virgola, altrimenti convertiamo un errore gravissimo. Questa è la causa, una delle due, dell'attuale mancanza di unificazione nella fisica.